e bello di ragazzi ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono x0 e benvenuto su un nuovo video oggi ragazzi siamo qui su roblox siamo qui su natural disaster e siamo appena in lobby perché perché sono appena entrato non sono appena morto raga tosturo togliamo un volume perché da un po fastidio raga vi dico subito vi ringrazio subito per i 45 iscritti ci abbiamo fatto dopo due 1 due giorni che eravamo a 40 iscritti 5 giorni in 2 barra 1 giorno quindi ragazzi grazie grazie mille prega devo dire tante cose se vabbè non mi frega niente che è super vissuto per chi volesse entrare nel team xrt me lo scrivano nei commenti e questo team è per fortnite rainbow six siege mi scrive nei commenti che io lo faccio mi scrive sul nickname e mi scriva che vuole entrare io lo faccio entrare cioè io sono felice se volete entrare e niente lasciate un bel like iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto e niente possiamo iniziare e cliccate la campanellina per non perdere nessun mio video nice allora raga qua sicuramente il vulcano per quindi io me ne vado qui proprio forte e chiaro boh ragazzi io me ne vado qui eh nooo 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 ragazzi vediamo ad un prossimo non video ma è disastro ok ragazzi siamo qui in un altro allora andiamo subito li cerchiamo ecco le che mi fanno cadere ecco le sti bibi e se ma sorella se ti muovi se ti muovi magari magari eh no eh ma è andata è andata voi no 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 è vero è vero mi sono proprio scordato se devo andare lì mi sono proprio scordato malamente ok allora raga eh andiamo più lontani possibili barchacci dovrebbe essere tornato per quindi andiamo no è il tsunami e raga è il tsunami è il tsunami andiamo via andiamo via andiamo via andiamo via più in alto possibile più in alto possibile più in alto possibile raga è il tsunami non ci voglio credere io è il tsunami oh il tsunami eccolo ecco il tsunami guarda guarda ci fa cadere ci fa cadere il tsunami aspetta aspetta no no nooo l'ho detto che ci faceva cadere l'ho detto muoiono tutti ma muoiono tutti ma raga siamo in un'altra mappa allora io provo a fare come prima proviamo ad andare lì raga no no se prima non era il tornado adesso è il tornado raga sono sicuro sono sicuro raga sono sicuro al 100% se è il tsunami mi suicido dai non può essere il tsunami non può essere due su due dai dai gioco è il tsunami è il tsunami raga è il tsunami non ci voglio credere è il tsunami ah no ma perché allora ho visto le onde alzarsi cioè no ma l'avete visto anche eh vedi è il tornado ulteriore modo ma raga io ho detto di non andarci eh raga io l'ho detto oh ma porca porca ora scusate oddio raga no ma cosa mi ha ucciso ma cosa ok raga siamo sempre alla stessa mappa e boh 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 non lo so non lo so raga non so che fare non so che fare io io non so quale sia dopo vediamo se capiamo l'inglese allora come si hm ho preso danno da cosa da cosa ma non mi frega niente cioè anzi mi ne frega perché per chi vuole giocare insieme a me su roblox mi manda ehm mi scrive nei commenti mi scrive anche su nickname che io io la scrivo perché non credo che mi troviate con roblox cavolo 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 allora è il vulcano quindi siamo qui sotto ma crolla rega crolla 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 guardate come ve lo dico ma il vulcano è proprio lì mi metto ormai è corto allora rega guardate la mia tattica è andare qui in basso e stare qui stare qui rega e stare qui perché rega non dovrebbe arrivare perché siamo protetti dalla scala e bu ragazzi se voi volete scrivere volete volete giocare con me e siete anche voi non avete scritto il nome e siete anche voi Roboxian è un bel casino e quindi ci dovremmo chattare in un app tipo whatsapp non lo so non lo so rega ci penserò ci penserò ma intanto non ancora nessuno me l'ha chiesto per quindi ne dubito altrimenti va bene rega e noi siamo praticamente io ve l'ho detto rega siamo coperti dalla scala no rega di quanto poco di quanto poco non ci credo mai ok la prossima mappa io davvero di pochissima rega dai in questo video almeno una vittoria dai allora entriamo qui ok ciao 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 friends ciao 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 Se dobbiamo uscire, cominciamo. Un problema, eh. Guardate, tu... No, sta laggando. Troppissimo. Sono morti tutti, raga. Aperti due. No, due sono sopravvissuti. Non ti credo. Non te gli credo. Non te gli credo. Mi voglio... 80... Io lo voglio. Non mi ha fatto un Kaiser. Ecco, costa. Mannaggia, costa! Che balle. Eh! Volevi! No, beh. E quello... Mi ha fatto... No, mi ha fatto cadere. Io, raga, lo giuro. E... Finirò questo video quando vincerò. Se non vincerò, non lo chiudo. Perché, raga... No. Non l'accetto! Non l'accetto! Dai! Ci, sono sopravvissuti. Sì, ok. Il 5% non mi interessa. Ma ce la facciamo? Il 5%. Beh... Beh, beh, beh. E, raga, facciamo l'ultima partitossa. Perché è anche al 5%, però fa niente. Facciamo l'ultima partitossa. Cerchiamo di vincerlo almeno ora, perché... Sono... Sono epic fail. Finito male. Allora. Eh... Ma... Ah! È alla casa. Devo stare sotto le scale. Sotto le scale, raga. No! Aspetta... È l'indonnazione... No, no. Ho capito qual è. Non dobbiamo stare nelle scale. Allora. Dovevamo cadere? Qui? No, fatemi cadere, dai! Toglietevi, toglietevi! Ci sono le scale qui. Dove sono le scale? Ci dovrebbero essere le scale? Dove sono le scale? Eccolo, eccolo, eccolo. Perché, raga, dobbiamo stare... Sul tetto. Me la ricordo. Me la ricordo. Io ero sotto le scale e sono morto male. Allora. Fire. Fuoco. Raga, non l'ho capito. Eh? Vediamo, vediamo, raga. 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 No, raga, ho sbagliato tutto. Devo cadere, devo cadere, devo cadere. Cercando di non morire. No, raga, non sono morto, non sono morto. Quanto goto. Quanto goto, raga. È per questo che dovevo cadere. No, però, potevo stare... No, non potevo stare lì. Raga, stiamo più lontani del fuoco. Perché fa male. E c'ho un HP, raga. Non... Non ditemi come mi sono salvato, ma credo... Tanta gente si è salvata. Però, raga, pensavo che era un altro. Peccato, peccato, peccato. Signor Jeff. Cosa vuoi dire? Ecco, signor Jeff. Non capitano Jeff, no, signor. È signor Maialino. Signor Jeff. Cosa mi dici? Che saranno dei coglioni, lo so, lo so, lo so. Lo so che saranno dei coglioni. Allora, andiamo qui. Che... No, bruciato! Ce l'abbiamo fatta, finalmente! In una... Fottodissima partita. Ce l'abbiamo fatta, raga. Per quindi, raga. Con questa vittoria... Io accetto. Con questa vittoria vi saluto qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale perché non l'ho ancora fatto. E noi ci vediamo. Alla prossima. Bella. E grazie per i 45 iscritti. Arriviamo a 50 iscritti. Grazie. Bella.